Monarchia inglese. Ho letto che le monarchie costituzionali come quella inglese hanno sempre mediato tra le monarchie assolute che erano troppo storiche e le repubbliche troppo poco storiche. Ma allora perché la monarchia inglese convince sempre di meno? Commento. Perché l'evoluzione collettiva grida che anche la monarchia inglese deve cedere il passo ad una società più reale. I suoi scandali accadono tutti perfettamente per questo.